buongiorno a tutti oggi il 20 novembre 2019 sono con il mio amico gianni ciao a tutti siamo davanti al teatro comunale o ex teatro cosa c'è dovrebbe essere un qualcosa di davanti adesso andiamo a vedere quasi una borsa si si ma viene di qua passiamo nel nella parte pedonale sto notando gianni che questo dehors hanno tirato giù il completamente il telone plastificato questi invisibili di protezione perché fa freddo pioveva forte di strada anche ci sono delle biciclette vediamo se c'è qualche amico no attenzione dove metti i piedi le coperte ci sono le coperte ci sono la borsetta che era qua la settimana scorsa non c'è più non c'è più attento che ci prende ci sono delle bucce di mandarino non so se si possono si faccia una zoomata detto che le pulci saltano e infatti c'è un po di odore ecco qui hanno chiuso completamente la scatola una scatola di che cosa pomodori pomodori hanno chiuso completamente questo dehors con il telo plastificato qui c'è l'ingresso qui stanno bene al caldo e gianni qui c'è un letto matrimoniale un letto singolo un letto matrimoniale uno singolo e beh insomma si affittano altri posti gianni c'è una bella bicicletta qua fuori magari è rubata qualcuno la potrà riconoscere e qua un tuo commento un tuo commento gianni qui aspetta che controlliamo sempre le porte è chiusa se ce l'avesse io questa struttura qui è cosa fareste che mi metterei a mangiare le le pizza fino in vera qua vediamo che comunque in sostanza c'è molta vita no nonostante c'è una borsettina quasi all'ingresso un sacchettino di nylon quasi all'ingresso del teatro comunale vediamo vediamo subito che cos'è una sacchettino di spazzatura evidentemente hanno consumato e dato che non pagano la spazzatura la lasciano lì va bene comunque questa struttura qua chissà di chi è oramai perché che nessuno si interessa se una struttura comunale che dovrebbe intervenire almeno la polizia municipale a guardare e controllare diciamo invece niente niente paghiamo del personale a fare cosa qui sta andando tutto a rotoli va bene dal teatro comunale dell'ex bar marini dai giardini pubblici della stazione che di fronte a me noi vi salutiamo anche oggi non abbiamo visto nessuno qua però le presenze ci sono ci sono perché abbiamo visto i loro le loro postazioni letto le loro postazioni che si vengono a rifugiare notturne notturne o o chissà per cosa vi salutiamo ciao a tutti ciao gianni e alla prossima ciao